Oh prati ma stasera? Stavo vedendo proprio mo, stasera cacchiamo 5 mila euro a capa, prendiamo il tavolo e alle puttaneci penso io Chiamo una tascia che porta le amiche sue, che mica si fanno i problemi e ci andiamo come chirduti eh? Stasera prendiamo il tavolo e ci spacchiamo, Cristalmo e Chandon, Fragolino, Claudianello Tanto sta pagando, finisci a schifio, che è il Vogue Dorm Bobbi Soul, non sdormi da sti dì, d'avvisca Sono due settimane che non ho vannesco con Frollin e me ne sono fatte adesso Non posso scherzare bene questo sabato perché c'è Bobbi Soul ha vanno a dorm Gli piccola attaccia con me e a te riesco come ho fatto il tuo locale, sta o non sta? Cap d'acce, sto tranquillo, ti dici cosa mi ha fatto, ti ho scritto tutto qua Allora, annuncio in un quarto, mi chiamo già guarda papà Voga a Bighi Leonard e Bobbi Soul E a mezzanotte in un quarto, stiamo già tutto Un balleo si imbala Stasera non succede assai la maionese Poba che, ueb-chi-yuaba 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 L'attanto Avenger quel vantotesato con della banca oh no no non si faccia venire, film, film ah ma ti attacco a gomma di titanico faffanculo a chi ti è morto oh agno franghi sta venendo a scassa a cazzo facciammi una neco, parliamo di una neco io penso che dovremmo fare più pubblicità no 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 mi disse 6 mila euro perciare la cena e ci cazzo mi sentite mangiare speedy pole, bombetti, caviale e io ci cazzo steve un regalo da noz faffanculo va ma no papà calmisciti, non gridare che cosa vuoi amici miei? chi sono le donne che mi sono arrabbiate da tu cazzo da titanico che da crociere che si fatti, che da pracque, che da femmine e papà che vuoi da me, lo sai che quella è andata a zippare il calipo in mezzamare, ti ricordi il calipo in mezzamare? si si, il calipo a limone, boh poi per le vendite i 6 mila euro, una della dapighe che mette la dapighe che pallicciote che sta screffato si si, 3 kg di bombetti 40 zambini ma c'è costina in gap, la bolognese vuoi fare un sponsor da Michelin? si franghi, non sono manato il curriculum però mi hanno detto che sto giubato ma è un frammoso e a mangiare dei 3 kg 40 mila euro a Luis Bichon, ci cazzo aziende nevi ehm, si quell'azienda che fa i maxi boni ce non so se a voi piace il sottorio che fa un maxi boni e z, da se appena accorto che si, vi fatica che chi sei 3 kg a loro che parlava dei 3 Carlina rapa vilacchione vilacchione a me, cazzo è da me non so se c'è risultato, non so franghi che non ci credo, I want ma è ci fai, si mette pure a franghi stai sveroniscendo ma è la necchia si fotte che stai pagando 100 mili e sei rato vengo vengo ciccio che ci non baggono da cacchino ma che ci sono maggiore da noi io non è che sono gresso è che ci ho le ossa a buttate poi stai parlando tu che sei il modello di Abercrombie tramite tu potete modella la pompa va fanno no no Leonardo non mi ha fregato ma non stai vivi ma non stai vivi ti piacere maionese che c'è c'è oh vedi a franghi, cosa sta qui maionese che c'è c'è vedi che moglie è brutta oh ma sei com'è blabbi ma tu cazzo è la due al du parquet polizio mi si ruot tu cazzo oh vabbè 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 che cosa vengono a essere questi speedy ball da biflaghi bombonini shat a fadgan shat sh 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 sh